Negli ultimi giorni le truppe russe sono riuscite ad avanzare rapidamente verso la città di Toretsk, nella zona del Donetsk ancora occupata dagli ucraini. Toretsk è una città industriale pesantemente fortificata, con una gran quantità di depositi di equipaggiamento militare. Inoltre la sua caduta aprirebbe ai russi la porta per avanzare verso la linea Kramators-Slaviansk, cioè le ultime posizioni di importanza che le forze ucraine ancora detengono nella Repubblica del Donetsk. L'attacco russo a Toretsk ha colto l'esercito ucraino di sorpresa e le loro truppe stanno procedendo a ritirarsi e ad evacuare la popolazione civile dalla città. Tuttavia un gran numero di cittadini di Toretsk e anche provenienti da altre zone vicine preferiscono, approfittando della confusione creata dall'avanzata russa, attraversare le linee e rifugiarsi nei territori già conquistati dalle truppe di Mosca. Ma lo scorso 27 giugno i militari ucraini hanno aperto fuoco su un gruppo di questi rifugiati che si stavano rivolgendo verso le posizioni russe. Come racconta uno dei superstiti dell'attacco, gli ucraini hanno utilizzato droni per individuare i civili che fuggivano per essere evacuati dai russi. Ci hanno localizzato, continua questo cittadino, e hanno iniziato a darci la caccia. Appena siamo entrati nella cintura della foresta, sopra di noi c'erano già sospesi un gruppo di droni. Hanno iniziato a bombardarci. Camminavamo in fila e diversi OVC sono esplosi a pochi metri da noi. Almeno sette civili sono stati uccisi. Questa cifra è stata posteriormente confermata dall'autorità della Repubblica Popolare del Donetsk.